La macchina è ribaitabile bilaterale, zero fumo, perfetta. Pino, hai visto le condizioni, guarda, purtroppo tu pensavi che era trilaterale, lei è bilaterale però a livello di condizioni, a livello di condizioni la macchina è perfetta. Una gru, lo modifichi te? La macchina ha il terzo asse intelligente con il volante. Gancho traino, campana automatica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.